eccoci qua cari amici buonasera benvenuti qui a life new e come sempre vi invito a cliccare sempre sulla campanella e sul like sulla fiducia perché questa sera è una puntata speciale finalmente dopo tanto tempo perché noi ci vediamo a decadi con Pier Giorgio abbiamo una delle nostre dirette che facciamo così senza appuntamenti e senza niente noi ci chiamiamo e quando abbiamo l'opportunità di sentirci e vederci cerchiamo di fare una di queste dirette ma non voglio perdermi solamente in parole paroloni andiamo subito al dunque ciao Pier come stai tutto bene ciao Giorgio bene a parte quello che va male il resto è favoloso sì se tutto va bene siamo rovinati praticamente vediamola così comunque il nostro compito è anche cercare di dare come in queste dirette dei degli attrezzi morali per cercare di sconfiggere le circostanze che ovviamente diventano sempre più difficili ma noi nella maggior parte tu perché per anche per questioni anagrafiche storiche e qualitative e posso dire che sei un esempio per i relatori ricercatori di quarta e diciamo terza generazione come come magari lo sono io però questa sera è importante questa sera è importante perché parleremo soprattutto con Pier di scienza dello spirito due cose che apparentemente diciamo i governi e gli stati e le culture che ci sovrastano cercano di dividere di far capire che la scienza non può stare vicina a al mondo diciamo divinatorio al mondo della spiritualità al mondo interiore sono due cose scisse e il mondo spirituale deve essere prettamente ignorante senza avere nessun ausilio della scienza questa sera secondo me avremo un bellissimo esempio di come le due cose possono camminare tranquillamente come due binari nella stessa direzione e addirittura trovare punti d'incontro infatti questa sera è la diretta dove ci sarà questa ricongiungimento della scienza dello spirito e le leggi universali che quelle come cornice alla nostro al nostro mondo non devono mancare adesso lascio la parola a Pier io vi saluto vi auguro buona diretta e come sempre vi ho detto non è che vai via no Giorgio rimani lì no 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 sto qui ad ascoltare se c'è qualche intervento qualcosa o ritiene opportuno che io possa essere diciamo all'altezza della domanda io sono pronto qui ad intervenire ma sicuramente le persone questa sera vogliono ascoltare te ma comunque tu da buon conduttore fammi le domande che ritiene opportune ovviamente certamente ci mancherebbe allora Giorgio intanto ti ringrazio per questo invito ringrazio gli amici che ci stanno seguendo quindi un caro saluto a tutti voi che seguite me che seguite Giorgio le sue bellissime dirette le cose che lui fa il tema che hai scelto per questa serie un tema a parer mio soprattutto in questo momento della storia dell'umanità con tutto quello che vabbè cioè possiamo riservire alla notte dei tempi ma per la nostra storia per la nostra vita che siamo vivi e presenti in questo momento sul pianeta terra quello che stiamo vivendo noi che non abbiamo conosciuto le guerre ci stiamo trovando in una condizione particolarmente difficile già abbiamo vissuto una specie di guerra quei due anni di pandemia che ancora ci ha lasciato strascichi pesanti a livello sociale e strascichi giganteschi ed enormi a livello economico e comunque a livello psicologico della popolazione questo non solo in italia ma in tutto il mondo e quindi il tema che tu hai scelto per oggi è un tema a parer mio fondamentale è la cosa più importante che l'umanità dovrebbe capire perché se non capirà quello di cui parleremo stasera non ne verremo fuori da tutti gravissimi problemi che comunque storicamente parlando ci angustiano e ci fanno soffrire da migliaia e migliaia di anni cioè la guerra l'ingiustizia la sofferenza dell'essere umano sono una norma in questo mondo e per quanto abbiamo conosciuto religioni antiche che poi sono scomparsi abbiamo conosciuto ideologie politiche eccetera eccetera di fatto nelle religioni né tantomeno le ideologie politiche hanno risolto il problema dell'infelicità umana cioè dell'equilibrio sociale tale per cui la storia Giorgio come tu ben sai ci insegna e ci dimostra che tutti gli imperi anche quelli più potenti che ci sono stati fino a ieri sono tutti crollati e si sono disolte quindi babilonesi sumeri egiziani il grande impero di alessandro la magna grecia i romani l'ultimo grande impero che abbiamo conosciuto tutti spariti i cesari addirittura si erano auto divinizzati invece sono finiti nella fossa come tutti gli altri e la polvere delle loro carni si è sparsa nel vento quindi a parer mio c'è una lezione che ci dà la storia e quindi un fatto scientifico dimostrabilissimo secondo la sioma di Galileo ma che l'uomo non prende ancora in considerazione arrogantemente pretende di trovare una soluzione ai problemi che lui stesso crea men che meno appunto le religioni hanno trovato una soluzione a questi problemi anzi spesso e volentieri i sistemi religiosi credo religiosi le istituzioni religiose sono esse stesse diventate fonte di dissidio di guerra non ci dobbiamo spostare troppo insomma se pensiamo ai 500 anni della cosiddetta santa inquisizione che ha sterminato peggio di tanti altri dittatori le persone per semplice sospetto dell'azione o perché magari il loro pensiero differiva dal dogma che bisognava imporre la figura di giordano bruno forse è una delle figure più importanti cardine di questa situazione per non dimenticare Galileo che abbiura ma mentre va via dice pur si muove quindi tutte queste cose ci dimostrano che comunque il dogmatismo da qualsiasi parte esso venga di fatto prodotto solo sfaceli spaventosi e io dubito molto che quello che sta accadendo adesso qualsiasi sia la fazione che noi prendiamo in considerazione chiunque uscirà vincente da questa situazione il problema non lo risolverà uguale perché ripetiamo comunque lo stesso errore e quindi da questa situazione non ne veniamo fuori e secondo i miei studi anche le mie personali esperienze il problema è proprio in quello che hai detto tu Giorgio cioè questa scissione imposta dogmaticamente perché non è dimostrata che la parte materiale dell'essere umano è inconciliabile con la parte spirituale ora fino a che noi professiamo una rivoluzione una religione fideistica basata sui credo religiosi e tu sai bene quanti credo religiosi abbiamo nel nostro mondo con le più differenti espressioni spiegazioni del divino ritualità paradisi di inferni eccetera eccetera cioè siamo veramente in un gran carnevale della della religiosità però di fatto nessuna religione ha risolto il problema quindi qualsiasi sia la religione o il gruppo religioso a livello etnico di fatto Giorgio vivono tutti lo stesso problema c'è la diseguaglianza la sofferenza la guerra eccetera 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 quindi dove sta il nodo il nodo sta proprio in questo fatto qui allora partiamo facciamo delle ipotesi secondo me io così come te e come tanti altri vivo in una nazione dove si professa c'è la religione più importante numericamente parlando e anche politicamente parlando e anche economicamente parlando è la religione cattolica il vaticano bene poi abbiamo in india altra nazione avanzata che a differenza nostra che abbiamo le bombe nucleari altrui loro hanno le loro ma tutte e due noi cattolici e loro induisti anche loro hanno le bombe nucleari noi abbiamo ingiustizie sociali loro hanno ingiustizie sociali oppure andiamo in Russia e Russia praticano la religione ortodossa anche loro hanno le bombe nucleari anche loro hanno l'ingiustizia sociale la criminalità le mafie e così via prendiamo la Cina dove si parla tanto adesso della Cina come nuovo polo assieme alla Russia assieme all'India che si contrappone al supposto ordine nuovo ordine mondiale però di fatto in India abbiamo già quello che noi stiamo temendo che stanno cercando di introdurre in Europa cioè hanno il punteggio sociale quindi tanto democratica la Cina non è seppure adesso fa parte del nuovo blocco di potere che si sta costituendo e che di fatto è quello che sta andando a scontro in mezzo purtroppo c'è finito il popolo ucraino ma sta andando a scontro col blocco della Nato quindi col blocco americano perché la Nato alla fine non è altro che il braccio armato degli Stati Uniti d'America non è un caso che il comandante della Nato sia sempre nominato dal presidente degli Stati Uniti e sia sempre un americano questo solo chi è disinformato e crede alle panzane dei media può cadere nell'inganno che la Nato non sia uno strumento belligerante usato dagli Stati Uniti d'America quindi di fatto tutti i gruppi religiosi compreso un altro gruppo religioso io considero a tutti gli effetti una religione che è l'ateismo professato per 70 anni nell'Unione Sovietica e comunque in buona parte l'ideologia comunista del partito cinese ma osservando tutte queste differenze Giorgio io noto un fatto che invece è scientifico e mi stupisce che da migliaia di anni gli esseri umani non vedono questo fatto qui vabbè forse si potrebbe dire nell'antichità non c'erano gli aerei non c'erano i grandi viaggi quindi magari era una considerazione più difficile da fare ma una domanda semplice perché nonostante queste abissali differenze religiose queste abissali storie e tradizioni che i popoli i grandi popoli che sin dall'antichità come l'India come altri si portano dietro la Russia comunque ha mille anni di storia ma è compresa appunto quella che io reputo un'altra religione che è l'ateismo la domanda è ma qualcuno mi dovrebbe spiegare come mai tutta sta gente nasce e cresce e invecchia e muore bene che vada allora se c'è una regola univoca che accomuna tutti gli esseri umani addirittura comprende questa regola anche il regno vegetale il regno animale ma non sarebbe il caso di capire che ci sono leggi naturali che noi non possiamo comandare e che non ci fanno nemmeno tanto piacere perché dubito di trovare qualcuno al di là forse di qualche saggio illuminato che ha piacere nel fatto di invecchiare di sapere che prima o poi chiuderà gli occhi e non vedrà più il sole sorgere la mattina quindi se c'è una univocità materiale quindi scientifica nel senso tangibile dico materiale nel senso tangibile che c'è una uniformità assolutamente fuori discussione nell'espressione vitale di tutti gli esseri viventi quindi quello umano quello animale quello vegetale e tutti nasciamo cresciamo invecchiamo e moriamo ovviamente tolti i casi diciamo così straordinari di chi magari non riesce a invecchiare per incidenti malattie o crimini eccetera eccetera ma la regola generale è quella lì allora viste le enormi e abissali differenze nell'espressione ritualistica e concettuali dei credo religiosi gli induisti dovrebbero avere un decorso vitale se la religione avesse così come la pratichiamo noi un qualche effetto reale che ne so gli induisti non dovrebbero morire o forse gli atei visto che non credono in niente non dovrebbero morire invece tutti seguiamo non solo prescindendo dalle religioni ma anche prescindendo dalla condizione sociale dalla razza dal genere sessuale tutti nasciamo cresciamo invecchiamo e moriamo questo ci dimostra al di là di qualsiasi dubbio venisse qualcuno a dirmi che non è vero che c'è una legge naturale che ci sovrasta che cerchiamo con la ricerca scientifica magari di vincere cerchiamo la vita eterna la pietra dell'eterna o la fonte dell'eterna giovinezza però di fatto ancora sta storia al di là di ambiti fantascientifici che già sono esistiti ma non entriamoci però di fatto Giorgio tutti nasciamo cresciamo invecchiamo e moriamo allora questo ci dice che c'è una legge naturale e quando parlo di legge parlo della legge di gravità per esempio è una legge che ci impone un determinato effetto cioè se io mi butto senza niente dal settimo piano di un palazzo e c'è l'asfalto sotto mi vado a sfracellare perché la legge di gravità a tutti gli esseri umani impone quel tipo di situazione nel momento che tu ti lanci nel vuoto tolti magari qualche guru o qualche maestro tibetano che magari ha imparato la levitazione ma di fatto tutta l'urbia umana segue quella legge lì e così tutte le altre leggi che studiano il mondo reale quindi se c'è una legge che impone a tutti gli esseri umani quel tipo di decorso significa che questa legge è una legge scientifica dubito che qualcuno mi possa smentire su questo poi farei una seconda considerazione Giorgio analizzando il credo religioso così come noi lo pratichiamo e in cui diciamo di credere cosa ovviamente ipocrita perché tutto facciamo noi italiani tranne che essere cristiani però accettiamo che siamo praticanti religiosi che andiamo in chiesa ci confessiamo ci mangiamo il corpo di Cristo eccetera 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 allora se io sono un cattolico e quindi credo in Dio credo in Cristo in tutte quelle robe lì quindi per ovvietà credo nello spirito ma se lo spirito è un credo religioso mi vuoi spiegare come fa a entrare in un corpo un credo religioso perché l'unione di uno spirito con un corpo che è un ente materiale studiato dalla scienza come fanno un credo religioso e un ente scientifico a unirsi e dar luogo all'uomo all'essere umano maschio femmina all'io sono intelligente come fa? c'è qualcosa di profondamente sbagliato distorto e anche stupido nel modo in cui gli esseri umani ci proponiamo a questi temi perché alla fine visto che noi crediamo in Gesù Cristo nostro Signore ma Cristo si è incarnato ha fatto miracoli che cos'è un miracolo? cos'è un miracolo? è una domanda a cui dovremmo rispondere se io portassi qui con una ipotetica macchina del tempo un uomo del 1200 e mi vede parlare con un pezzo di metallo nel quale ci sei tu piccolino e quello lo smonte dice ma come fa ad esserci lì dentro un uomo piccolino che parla che si muove cioè non capirebbe perché la scienza dell'invisibile cioè delle energie elettricità elettromagnetismo eccetera non la comprende non la conosce penserebbe che è una diavoleria o che è un miracolo e quindi che io e te siamo due grandi maghi in grado di realizzare queste magie quindi alla fine ipotesi ma non è che il miracolo è l'applicazione di una conoscenza a cui noi ancora non siamo arrivati e che Cristo invece di essere un capo religioso è un iniziato di scienze a noi sconosciute che ha cercato di spiegarci delle cose che non abbiamo capito curiosamente nel Vangelo di Giovanni il Signore parla di un personaggio che lui chiama il Paraclito che è un termine greco che significa consolatore e dice non vi posso dire tutte le cose perché non ne portereste il peso ma me ne vado perché se io non me ne vado non può venire a voi il consolatore promesso lui vi spiegherà tutto dice Gesù però fa una precisazione e dice non vi parlerà del suo ma vi dirà le cose che lui che a lui verranno dette adesso non vado per diciamo recitazione didascalica dei versetti ma il senso è quello lì quindi era evidente che il Signore duemila anni fa ad una società di cammellieri agricoltori commercianti che non sapevano un fico secco di scienza non poteva dire certe cose ma se Gesù venisse da una dimensione o da una realtà molto più antica molto più evoluta di quella che è ovviamente quella degli esseri umani e lui quando faceva i miracoli in realtà stava applicando conoscenze che noi ancora non conosciamo non sappiamo è un'ipotesi ma Gesù operava nel tangibile cioè la sua espressione fattiva operava nella materia quindi quando lui si trovava di fronte un paralitico lo guariva non era un fatto di credo era un fatto scientifico perché quello da che era paralitico guariva quindi c'è una conoscenza medico sanitaria biologica che lui conosceva e poteva applicare poi qualcuno mi dirà ma sei blasfemo perché lui è il figlio di Dio e quindi come Dio può fare i miracoli sì ma non mi hai spiegato nulla perché non mi hai spiegato nulla finisco poi mi fai la domanda Giorgio perché se io e te tutta l'umanità pianeta terra e universo compreso ci ha fatto Dio e Dio ha fatto noi che siamo tema di scienza allora se Dio ha manifestato la scienza perché noi abbiamo pensato la scienza per capire la creazione perché Cristo non potrebbe fare cose scientifiche a parer mio le ha fatte quindi e qui chiudo io che conosco e collaboro da più di trent'anni con uno stigmatizzato che è Giorgio Bongiovanni quando io guardo quelle ferite che sono impossibili io vedo una scienza in grado di mantenere una cellula umana tra l'altro nel corpo di un diabetico in uno stato di squilibrio stabile cioè una cellula quella dove Giorgio ha le ferite che non si infetta e non guarisce da più di trent'anni ma siccome è un effetto sulla cellula sui tendini perché poi fuori sono passanti anche se sono sempre coperti dalle escare dal sangue rappreso ma quello è un potere scientifico perché agisce sulla cellula hai voglia che tu me lo chiami miracolo ma di fatto c'è un qualcosa un potere che riesce a informare quella cellula e a mantenerlo in uno stato stabile di squilibrio perché la ferita è una condizione di squilibrio del corpo di un essere umano quindi o va in cancrena o guarisce invece quella non va in cancrena e non guarisce da più di trent'anni e quindi è un fatto scientifico quindi dovremmo rivedere molte cose per capire che questa scienza dello spirito non è altro così come la scienza delle energie un qualche cosa che studia quell'energia intelligente che noi chiamiamo spirito e che è una vera scienza cioè è una scienza matematicamente esatta che se ben compresa e applicata risolverebbe tutti i problemi dell'essere umano anche allora il concetto di misticità dovrebbe essere rivisto perché la misticità nel tempo è sempre stato un calderone dell'ignoto dove noi non riusciamo quando non riusciamo a capire qualcosa è mistico e la lasciamo lì allora a quel punto possiamo dare anche un senso a quella a quella parte di di incompreso e Piero ritornando un po' un discorso perché volevo fare una domanda riguardante al fatto di di Gesù tu hai allora asserisci il fatto che ci sono sicuramente era un uomo che sapeva molto più degli altri non poteva spiegarli con termini scientifici e tecnologici a delle persone che aveva di fronte e quindi cercava di essere più semplice possibile ma nella trasfigurazione e io ho studiato molto quella parte però mi interessava sapere tu che cosa ne pensi il momento in cui finalmente si decide Gesù di dire vi farò vedere finalmente qual è il mio volto perché loro continuavano a dirgli come sei fatto come sei dicci chi sei e lui finalmente si decide secondo te come può essere vista quell'aneddoto ma lui a parer mio lo ha spiegato perché da tutto il discorso che io ho fatto Giorgio ammettendo sempre per ipotesi e non voglio arrogantemente dire che ho ragione io e ho la verità in tasca ma ammettendo sempre per ipotesi che questo discorso che ho fatto sinora sia vero ciò significa che forse Gesù non voleva istituire una religione e forse quello che lui ci ha spiegato e che è stato trascritto nel Vangelo purtroppo in modo non ordinato perché il Vangelo è la trascrizione dei detti orali su Gesù e quindi non è un libro è una trasposizione disordinata di ciò che Gesù ha spiegato perché Gesù nel Vangelo se non capisci la struttura è uno che si contraddice in continuazione per esempio lui nei Vangeli soprattutto quelli sinotici ripete i comandamenti tra l'altro ne ripete sette e non dieci purtroppo gli evangelisti nessuno dei tre né Marco né Luca né Matteo li hanno ripetuti tutti però mettendo insieme i tre Vangeli sinotici vengono fuori i sette comandamenti non dieci perché ci sono dei comandamenti nei dieci comandamenti che sono duplici cioè dicono la stessa cosa ad esempio non rubare non desiderare la roba ad altri cioè se io desidero la roba ad altri la rubo quindi è un comandamento doppio quindi si vede che Mosè magari voleva specificare alcune cose nelle quali il popolo di Israele a quell'epoca era particolarmente debole questo è oppure non commettere adulterio non desiderare la donna ad altri cioè la stessa cosa anche se a parer mio non commettere adulterio ha un significato molto più esteso che non adulterare perché ad esempio noi abbiamo dei guai grossi col pianeta perché adulteriamo l'equilibrio della natura ma se noi seguendo il senso delle cose che ho detto finora Giorgio assumiamo ipoteticamente che il Vangelo non sia un testo religioso ma in realtà è un manuale che ci vuole spiegare la scienza dello spirito e incominciamo ad analizzarla da questo punto di vista allora ecco che misteriosamente miracolosamente le cose incominciano ad avere un senso quando Gesù è apparentemente contraddittore e quindi ti dice onora il padre e la madre e poi ti dice se non ho di tuo padre e tua madre non sei degno di me e uno dice ma che devo fare signore o onoro il padre e la madre o l'odio cioè mettiti d'accordo in ciò che mi vuoi spiegare è evidente a parer mio per gli studi che io ho fatto sulla scrittura che bisogna smontare il Vangelo e riordinarlo per tema perché se lo riordini per tema allora tutte le cose hanno un senso adesso non voglio entrare nel dettaglio quindi cosa voglio dire con tutto questo che a parer mio quel tipo di insegnamento fideistico se noi vogliamo assumere come un fatto diciamo importante l'assioma ermetico come in alto così in basso l'umanità fondamentalmente si evolve ha una sua storia comunque evolutiva per quanto pieni di problemi non siamo la stessa umanità di duemila 3.000 4.000 anni fa ora in un mondo dove non c'era la scienza e quindi la razionalità è ovvio che il rapporto con Dio consideriamolo nostro padre nostro creatore nostro genitore è un rapporto basato sull'affettività sull'emozione la fede o fiducia in te sull'affidamento che è quello che fa il bambino col genitore col papà e la mamma si affida perché non ha capacità razionali e scientifiche per discernere tanto meno di esperienza per discernere quali siano le decisioni da prendere in relazione ai fatti della vita ma il bambino cresce quindi quando noi diventiamo adulti il rapporto col genitore non è più quello da figlio a genitore ma è quello diventiamo fratelli o sorelle del genitore cioè inizia una discussione io la penso così tu non la pensi così il bambino non fa questo al massimo dice papà mi compri il gelato no state zitto se no ti pigli in ceffone per dire cose che ovviamente è meglio non fare quindi se l'umanità bambina ancora ignara della scienza a livello massivo per quanto sappiamo bene che gli scienziati c'erano anche 2000 3000 4000 anni fa ma erano racchiusi all'interno dei templi anzi in quei periodi lì il sacerdote e lo scienziato erano la stessa cosa come Archimede Pitagorico o altri che possiamo citare quindi oggi che l'umanità è cresciuta ma non sarebbe il caso di rivedere da un punto di vista anche razionale la religione e passare da un affidamento che comunque ha prodotto un mare di sfaceli a una analisi a un approccio scientifico che forse finalmente ci darebbe le chiavi di lettura questo è il discorso che voglio fare io perché se ancora dopo migliaia di anni versiamo sempre con gli stessi problemi questo mi dice che sbagliamo qualcosa di importante nell'approccio alla vita perché adesso io ho l'età che ho ma guardando anche da ragazzo il decorso della vita degli esseri umani io non conosco non so di coppie che quando si sono innamorati e si sono messi insieme il loro progetto era che dovevano litigare menarsi fare dei figli che poi diventavano delinquenti divorziare nella coppia l'idea è sempre quella di una vita felice del figlio perfetto che fa carriera e diventa direttore di una qualche cosa è una tipica diciamo è un tipico desiderio della coppia che si sposano si sposano non è importante eppure invece se noi andiamo ad esaminare il mondo dei rapporti umani è un mondo di terribili sofferenze di fallimenti clamorosi cioè se le aziende che gli imprenditori creano seguissero lo stesso iter delle relazioni di coppia o delle relazioni amicali o delle relazioni parentali non avremmo mai avuto industria perché tutte le industrie sarebbero fallite tutte le aziende e tutte le iniziative commerciali sarebbero fallite allora com'è che noi riusciamo magari a essere grandi imprenditori creare aziende favolose e poi nei rapporti tra noi siamo una totale catastrofe è ovvio che se l'univocità di questa situazione che accomuna la stragrande maggioranza degli esseri umani produce quell'effetto è ovvio che c'è qualche errore grave che si fa nel merito cioè noi siamo come quello che pretende comunque di buttarsi dal settimo piano senza paracadute niente e si sfracella sempre però noi insistiamo a sfracellarci quindi c'è un errore grave che l'umanità compie nell'approcciarsi alle relazioni umane laddove soprattutto nascono gli attriti ma che senso ha adesso usare le armi ammazzarsi come cani non ha mai risolto nulla la guerra cade un impero ne nasce un altro che segue esattamente lo stesso iter non risolvono le guerre non hanno mai risolto poi nei detti popolari una certa saggezza c'è sangue chiama sangue quindi a parer mio tra i contendenti non ha ragione nessuno dei due non è quello il modo di risolvere i problemi capisco che se uno magari viene messo a spalle al muro ma che ne so se vogliamo analizzare la storia ad esempio il signor Gandhi il Mahatma ci ha dato una versione dei fatti un approccio al problema della dittatura particolare e vittorioso tra l'altro cioè Gandhi era riuscito a buttare fuori da casa sua l'impero più potente dell'epoca che era quello inglese esempio che mai più nessuno ha seguito ora siccome Gesù Cristo è il principe dell'amore e ci dice porgi l'altra guancia e perdona 70 volte 7 ma non è che ci sta dicendo un qualcosa che poi si lega a quei concetti che nell'Oriente vengono chiamati karma cioè alla legge di causa effetto perché se la causa e l'effetto non è un credo chi di spada ferisce di spada perirà questa è la legge di causa ed effetto se io vado a leggere il Vangelo Gesù dice ecco io vengo presto e renderò a ciascuno secondo le sue azioni ma quelle cause effetto quindi la determinazione del nostro stato vitale di sofferenza o di gioia è prodotto dalle nostre azioni e le nostre azioni quando violano delle leggi che stanno lì se uccidi verrai ucciso se odi verrai odiato se ami sarai amato ma non è che questa legge ci sovrasta e di lì l'inghippo cioè che noi arrogantemente ci vogliamo mettere al di sopra della legge ma la legge siccome è inviolabile è universale ed è eterna ed è naturale cioè non è un credo religioso ecco quindi che noi siamo come quello scemo che incontra un palo sulla via e pretende a testate che lui non si sposta si deve spostare il palo ma ti rompi la testa tu il palo non si rompe a testate la scienza molto spesso viene vista come una cosa tecnica qualcosa che va è lontana dalla parte riguardante l'aspetto umano no invece detto scienza dello spirito la gente non riesce a capire come la scienza può entrare all'interno di questo antro che è la nostra umanità molto spesso non si riescono a fare infatti sto guardando un po' delle domande non si riesce a fare questo rimane sempre il distinguo non si riesce a capire che certo questo è ovvio Giorgio che non si riesca a capire nemmeno è facile da capire perché ho detto prima abbiamo avuto tanti abbiamo tante religioni e abbiamo visto nell'arco della storia anche quella relativamente moderna grandi ideologie politiche che poi hanno fallito il comunismo il nazismo il fascismo hanno fallito cioè non hanno risolto niente hanno solo fatto dei creato dei disastri spaventosi fatto morire milioni di persone in sofferenzi atroci e questo è accaduto in occidente ed è accaduto in unione sovietica è accaduto col fascismo è accaduto con il nazismo è accaduto con la democrazia cioè di cosa vogliamo parlare non vorrei ma tutti abbiamo sentito tanti di noi hanno sentito Madeleine Albright tra l'altro passata non so sia miglior vita recentemente che con tutta serafica risponde la giornalista che mezzo milione di bambini morti era un prezzo che si poteva pagare certo fino a che non è tuo figlio che crepa è un prezzo che si può pagare quindi ascoltiamo delle mostruosità spaventose dai nostri leader politici e facciamo finta che sia tutto normale e tutto regolare tanto fino a che non tocca le nostre chiappe noi siamo tranquilli quindi questa difficoltà di concepire la scienza spirituale cosa richiede Giorgio? richiede una nuova visione della vita cioè oggi purtroppo a causa della potenza mediatica il popolo ragiona esattamente come l'elite vogliono potere vogliono denaro vogliono successo vogliono sesso vogliono godimento quindi se la visione della vita del popolo se la visione della vita del governante se la visione della vita dell'elite è la stessa chi riuscirà a risolvere il problema? questo lo stiamo vivendo noi drammaticamente col Movimento 5 Stelle ci hanno promesso Maria e Monti poi sono andati lì e stanno facendo delle cose obrobriose sono dei Giuda ci hanno tradito sfacciatamente il popolo italiano e stanno lì a sostenere un governo di un personaggio che nessuno è eletto che è un banchiere che ha sfacciato la Grecia e ne ha combinate di ogni perché i 5 Stelle potrebbero ritirarsi dal governo e farlo cadere domani il governo di questo signore non eletto dal popolo che sta rovinando l'Italia il liquidatore di quel poco che ancora è rimasto del benessere italiano ci parla di crisi energetica ma come il prezzo dei barili in questi giorni è sceso tantissimo ma il prezzo dei carburanti del gas per autotrazione non è sceso di una virgola sì l'ha fatto scendere mi sembra di 20-25 centesimi ma ha tirato su tutto non è che magari sto signore vuole cacciare via dalle tasche degli italiani quel risparmio privato che fa gola alla grande finanza internazionale quindi dove c'hanno la testa gli italiani ce l'hanno baccata quindi ci vuole una nuova visione della vita quindi se noi non abbiamo una nuova visione della vita nuovi concetti scientifici nuovi concetti sociali nuovi concetti spirituali non lo risolveremo il problema il problema per quanto sia un problema ma è un problema relativo il siero il certificato verde sono problemi relativi che non risolvono il grande problema della felicità umana anche perché io ho nel mio canale youtube c'è un video che mi sembra si intitoli questo non ve lo dirà nessuno dove ho detto ma scusate ma vi siete dimenticati che c'è un pianeta che sta morendo? nel 2017 15.000 scienziati non due polli 15.000 scienziati hanno firmato una lettera aperta che dà massimo un tempo di vita al pianeta che arriva al 2050 allora bello riapriamo tutte le attività aboliamo il certificato verde i sieri i maledetti li togliamo di mezzo cosa abbiamo risolto se nel 2050 il pianeta muore noi moriamo con lui non abbiamo risolto nulla ci sono problemi grandiosi su cui nessuno sta facendo nulla finirà magari la guerra tra Russia e Ucraina speriamo che finisca me lo auguro perché la sofferenza dei popoli è tanta ma non risolve il problema c'è un macro problema su cui nessuno sta mettendo mano addirittura vogliono ci hanno fatto due balle così con la storia del green ma dov'è il green vogliono riaprire le centrali a carbone le auto elettriche per fare le batterie creano dei disastri ambientali spaventosi ma che ci abbiamo in testa quindi c'è un problema grave che l'uomo comune non il potere che quello non cambia già l'aveva capito Giordano Bruno lì nel tribunale della santa inquisizione hanno detto che cretino che sono stato a pensare che il potere riformasse se stesso il potere non si riforma non lo farà mai perché come dice Cristo hanno già le loro le loro ricompense il popolo avrebbe interesse a riformare la sua visione della vita ma questi due anni di pandemia mi hanno fatto vedere un popolo che nella stragrande maggioranza è cattivo crudele fascista che perseguita il vicino ho sentito dire delle cose dal personale sanitario spaventose se avessi uno vax so io cosa gli farei ma che cavolo è questo popolo e poi vorrei proporre anche una riflessione ai cari concittadini italiani ma ve lo siete dimenticati che noi poco tempo fa pochi decenni fa adoravamo il signor Mussolini quindi quella indole fascista di destra alla maggioranza degli italiani ancora non gli è passata non gli è passata per quanto abbiamo avuto una breve diciamo così parentesi col comunismo italiano che è stato il più grande partito comunista d'Europa ma è finita la sinistra oggi è peggio della destra sono parole vuote dove tutti perseguono un unico discorso che è quello del padrone a stelle strisce quindi c'è un problema grave e noi abbiamo bisogno dell'homo novus Giorgio l'homo novus già teorizzato da Giordano Bruno abbiamo bisogno di un uomo che capisca veda gestisca la vita in una forma completamente diversa da quella che la nostra storia millenaria ci ha fatto vedere come modo di agire dobbiamo cambiare la soluzione non è abolire i sieri abolire il certificato verde la soluzione non è quella perché se noi vogliamo tornare alla vita di prima e quindi ci facciamo il siero o non vogliamo tornare o vogliamo tornare alla vita di prima senza il siero e senza il certificato verde ma non abbiamo risolto il problema e in più questi problemi scatturiscono dalla vita di prima vengono da lì dagli ignavia del popolo dall'indifferenza alla vita politica dall'indifferenza alla vita della magistratura è un popolo indifferente che pensava nella stragrande maggioranza solo a lavorare fare soldi divertirsi pagare le bollette e farsi gli affari propri dov'è la coscienza sociale del popolo italiano tranne quei rari casi quindi non si può tornare alla vita di prima né i prosiero né i controsiero non si può tornare lì bisogna cambiare ma per cambiare ci vuole una nuova visione della vita e una nuova visione della vita ovviamente Giorgio per ovvietà richiede una nuova visione dell'essere umano richiede una nuova visione di Dio della religione dello spirito cioè dobbiamo entrare in questi fattori in questi aspetti da un punto di vista scientifico grazie a Dio la promessa del Signore si è realizzata perché questa straordinaria conoscenza ci viene dalle altre civiltà che non sono astronauti di altri mondi sono molto di più questi esseri che ci stanno visitando sono maestri sono maestri di vita sono grandi scienziati che conoscono la scienza dello spirito e la scienza della materia perché noi 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 esseri umani siamo una entità multidimensionale tripartita noi siamo formato da corpo siamo formato da una struttura energetica chiamata anima i sovietici la chiamarono l'anima campo strutturatore di forma è quello che dice alle cellule come si devono dividere come si devono specializzare che le ordina che gli dà le specificità e dopo le mantiene nella loro condizione di equilibrio che noi chiamiamo vita e ovviamente anche vita con salute perché se c'è malattia è vita in disquilibrio la vita in equilibrio è la vita con salute e poi c'è una energia che ancora non abbiamo ben capito che siamo noi l'entità spirituale io sono intelligente che sta dentro questi due involucri uno materiale tangibile uno energetico invisibile se non con particolari apparecchiature o con facoltà che si possono sviluppare con discipline come lo yoga la meditazione e altre cose ma noi siamo un'entità eterna tripartita noi entriamo temporaneamente in un corpo per un certo periodo molto breve 70 80 anni 90 anni 100 anni quanto va bene anzi auguri e abbracci sempre il mio carissimo Gasparo De Lama che è un uomo veramente straordinario un giovanotto di 100 quasi un anni che sta lì ancora a parlare di extraterrestri a incontrare le persone da poco si è visto con Red Ronni l'amica Marina Tonini hanno fatto hanno passato una bellissima giornata insieme veramente un uomo straordinario quindi tornando al punto Giorgio abbiamo bisogno di studiare perché in realtà la scienza è entrata in questi settori solo che vengono occultati perché queste scoperte sono molto lesive dannose per la big pharma che ci vende vereni chimici quindi bisogna capire come stanno le cose la scienza è arrivata ai mondi spirituali per lo meno alla parte energetica dell'essere umano già si è capito che l'uomo ha un campo toroidale un campo dinamico ovviamente così come ce l'ha il pianeta Terra il pianeta Terra ha un toroide che noi chiamiamo fasce divanale l'essere umano è la stessa cosa è un toroide dove la parte visibile così come il pianeta è quella materiale ma poi c'è una parte invisibile che già si conosce che viene studiata che ha un'importanza questa parte invisibile ha un'importanza enorme nell'ambito di ciò che noi chiamiamo salute benessere psicofisico gioia equilibrio positività quel campo è molto importante ma nessuno ce ne parla di questo quindi dobbiamo entrare a tutti i costi pena non risolvere il problema della sofferenza in questa scienza grandiosa che questi esseri che vengono dal cosmo questi grandi maestri di vita che non solo vengono da altri mondi ma vengono da dimensioni ben diverse dalla nostra dimensioni più avanzate un iter che tutta la creazione segue ci portano questi insegnamenti queste conoscenze perché disperatamente stanno cercando di inoculare negli esseri umani una nuova visione della vita per questo il potere li odia e ce li nasconde ce li nascondeva perché adesso a fine dicembre dell'anno scorso Sleepy Joe come lo chiamano in America Joe Biden ha firmato una legge federale che finalmente sdogana il discorso degli UFO è diventata una legge federale addirittura questa legge impone al Pentagono e ai servizi segreti NSA CIA FBI eccetera di collaborare persino con enti civili o pseudotali come la NASA e altri nella gestione del discorso della presenza di questi mezzi straordinariamente avanzati addirittura impongono a ottobre di ogni anno che ci sia una relazione pubblica al congresso sui risultati della ricerca sugli UFO che purtroppo però vengono percepiti come minaccia che non è una favola per il potere questi esseri sono una grande minaccia perché i loro concetti altissimi di spiritualità di pace di filosofia di scienza dello spirito farebbero cadere il sistema così come lo conosciamo non è un caso che questo lo ha detto pubblicamente il World Economic Forum di Klaus Schwab nel 2013 e a fine dicembre dell'anno scorso è uscito un articolo sul Financial Times dove proprio dice che gli UFO sono un problema per il portafoglio dei grandi centri di potere economico mondiale adesso lo stanno dicendo è una cosa che noi ricercatori sappiamo da tanti anni ma finalmente è una cosa che hanno dovuto sdoganare e dovuto dire quindi oggi abbiamo una legge federale che impone quello che ho detto in relazione agli UFO e abbiamo grandi potentati o espressioni di potentati finanziari come il World Economic Forum e come il Financial Times che parlano del gravissimo rischio per la stabilità del sistema finanziario della diffusione della realtà della vita extraterrestre quindi dobbiamo impegnarci in questo dobbiamo studiare e questi questi scusa dico questo Giorgio poi mi fai la domanda infatti io apro tutti i miei incontri online o di persona proponendo al pubblico 20 libri gratis in formato elettronico che sono libri che provengono da una fonte universale extraterrestre e da fonte divina cristica dove c'è una parte ma comunque molto consistente 20 libri non sono poca cosa di questa grandiosa conoscenza che dai mondi cosmici e dai mondi spirituali divini ci è stata data proprio perché l'essere umano potesse finalmente superare questa terribile impasse che comunque oggi come oggi ci fa rischiare nel caso di una guerra atomica una estinzione massiva cioè un'autodistruzione clamorosa quindi abbiamo bisogno di questa nuova visione della vita disperatamente bisogno e l'essere umano essendo un'entità tripartita che dialoga con l'universo e con la realtà attraverso la legge di causa effetto ha in sé un potere che non conosce è grandioso noi se conoscessimo e sapessimo usare questa legge importantissima di causa ed effetto noi potremmo creare la nostra realtà a piacimento così come la vogliamo e credo che la felicità la desiderino tutti sì Piero io volevo dirti una cosa sembrerò polemico a dirti questo ma è voluto per quale motivo l'essere umano la specie umana soprattutto quella che vive la nostra epoca è un po' diciamo un po' particolare dal punto di vista del contesto storico dell'attitudine dell'atteggiamento che ha in alcuni contesti storici quando siamo in tempi di pace ci dimentichiamo di tutto viviamo come se tutto è scontato poi quando siamo in momenti di disperazione lì diventiamo tutti propensi all'evoluzione ci dobbiamo risvegliare dobbiamo iniziano ad arrivare i famosi paroloni ma diciamo che sono un po' dettati dalle condizioni storiche perché non abbiamo mai avuto un principio di continuità nella nostra epoca vero io se mi permetti questo dobbiamo fare un po' un esame di coscienza su questo perché se vai a vedere la curva storica delle dell'attitudine delle persone al credo alla speranza è sempre rapportato agli eventi storici c'è una guerra certo alla necessità contingente del momento ecco io questa cosa però non la trovo giusta perché secondo me tu devi lodare amare il prossimo tuo e amare Dio amare indipendentemente dal contesto che stai vivendo e questo non avviene mai se tu vai a vedere tutte le storie del mondo parlavamo poco fa di epoche passate di hanno fallito per questo motivo perché si accorgevano della speranza e della circostanza e della necessità dello spirito solamente quando era troppo tardi e questa cosa quando cambierà perché non finirà con noi ovviamente perché noi la nostra dinamica è sempre quella quindi sì qui dobbiamo fare non vorrei ricapitare in questa ciclicità continua sai come chiamano gli extraterrestri questo pianeta lo chiamano Saras è un nome palindromo si legge allo stesso modo vuol dire ripetizione d'errore cosa significa che in questo mondo si incarnano le entità intelligenti ostinate che in questa parte della galassia sono incancrenite e ostinate nel male non vogliono cambiare nonostante i fallimenti ripetuti nella loro ricerca della felicità pretendono comunque che ci hanno ragione loro qualsiasi sia la fazione contro pro uguale tutte e due vanno a scontro il popolo si divide subito esempio gli esercenti che diventano i persecutori dei loro clienti e i loro clienti che per ripicca fanno l'aperitivo lungo la strada ma è quello che il potere vuole dividerci metterci tutti l'uno contro l'altro così mentre ci scanniamo tra di noi il terzo gode questa è la situazione caschiamo sempre in questa trappola di dividerci di non difendere i valori fondamentali io non sono né contro né pro il siero ognuno decida da sé libertà perché dopo quello che semini raccogli io non posso imporre a una persona di non farsi il siero che si informi ed educa e che raccolga gli i frutti della sua scelta punto cioè noi dobbiamo difendere il valore perché se cadiamo nella trappola del teatrino che ci ricama addosso il potere non ne verremo mai fuori e questa cosa è voluta apposta dividerci sempre comunque basta guardare quelle arene o scene che sono le trasmissioni televisive dove ci sono dei capò dei farabuti bugiardi che non danno libertà di parola che appena appena uno dice un qualcosa che non è il discorso dominante imposto dall'alto subito viene aggredito bullizzato buttato fuori dalle università angariato dai colleghi ma che gente è questa ma che società è questa questa è una cosa divertente che noi lottiamo per la libertà altrui e quando qualcuno si permette di dire qualcosa di contrario all'egemonia che c'è del potere viene automaticamente bannato viene ostracizzato fa ridere questa cosa certo quindi questa cosa significa che non abbiamo capito un accidente della democrazia che non siamo persone che hanno fatto propri grandi valori dell'umanesimo c'era il signor Voltaire pare che fosse lui che diceva non sono d'accordo su quello che dici ma farò di tutto affinché tu lo possa dire che non è che va sempre bene perché se un mafioso o un criminale vuole dire qualcosa forse è meglio che non la dica ma comunque diciamo tolte queste estremizzazioni è in costituzione addirittura la libertà di pensiero di parola cioè io sono libero di dire quello che voglio poi se dico corbellerie o addirittura cose illegali ne pagherò le conseguenze ma ho il diritto di dirlo non ci può essere il presunto medico esperto di turno che mi dice questo non lo puoi dire se no ti ammazzo ma chi sei? io ho sentito dire da brunetta delle cose cioè ma quello non mi rappresenta cioè quello è un nostro rappresentante Mario Draghi ci rappresenta ma io no anche no non siamo una democrazia siamo una muta di cani rabbiosi che si azzannano l'uno con l'altro non capiamo niente di diritto vedo come si sono comportate le forze dell'ordine cioè delle cose spaventose ignobili ignoranti peggio delle capre non sanno nulla di legislazione di diritto di costituzione vanno lì eseguono gli ordini come facevano esattamente all'epoca del nazismo o del fascismo perseguitare il proprio simile mentre invece chi sta in alto se la ride e se la gode quindi abbiamo bisogno di una nuova visione della vita e comprendere popolo e potenti che non scampi a queste leggi che ciò che fai ti torna indietro quindi ho delle domande se è possibile Giorgio Giorgio puoi chiedere a Pier vedi fanno distinzione tu sei Pier io sono Giorgio meno male solitamente mi chiamano salvo tu sei Pier Giorgio io sono salvo però va bene allora Gesù disse queste cose è necessario che accadano se c'è già un disegno programmato affinché l'umanità sbagli per il nuovo mondo tutto l'impegno dell'uomo è inutile no sbagliato perché Cristo cioè queste sono cose che ripetiamo a pappardella ma in realtà non conosciamo tutta la scrittura perché Cristo ci dice che raccogliamo ciò che seminiamo quindi c'è un dominus che è il creatore che è un progetto se andiamo mi sembra Matteo 25 Gesù dice venite benedetti dal Padre mio prendete possesso del regno preparato per voi fino dalla fondazione del mondo dice così quindi nel momento che il creatore assumiamo sempre per ipotesi che sia un'entità reale e non un credo religioso c'è uno che ha vero potere di intervenire nella materia poi l'ha sempre fatto chi è che ha mandato Gesù Cristo non è stato Dio e quello ha camminato in mezzo a noi ha fatto i miracoli quindi questo Dio è un'entità che sta da qualche parte e che ha potere di fare delle cose impressionanti e che tra l'altro non ha nemici perché se uno è onnipotente non ha nemici e quindi dovremmo anche rivedere che cos'è realmente il male il demonio lucifero eccetera eccetera sono sui strumenti poi purtroppo per ignoranza il cattolicesimo ha cambiato il Padre nostro ma era non indurci in tentazione perché e rispondo alla domanda Dio ha un progetto ha uno schema quindi il progetto per il pianeta Terra e per l'umanità del pianeta Terra è il regno il regno di pace ed amore e di giustizia ed uguaglianza però poi dice fate un po' voi quindi Giorgio Pier la persona che ha fatto la domanda sono le nostre scelte di vita che determineranno se noi facciamo parte o meno del regno quindi abbiamo un enorme potere nella scelta del nostro destino ovviamente non possiamo fare nulla cioè io non posso né tu né tutta l'umanità intera non possono impedire al creatore di raggiungere il suo obiettivo che è l'instaurazione del regno quello si realizzerà ma poi basta chi ci entra e chi aderisce a certe indicazioni che ci sono state date il rispetto dei comandamenti l'etica la solidarietà e così via ma scegli tu sei tu che decidi se far parte o meno del regno sono io che decido se la mia vita è felice è prospera in base alle azioni che faccio quindi noi abbiamo un grande potere l'unico potere che non abbiamo è di farci un regno a capocchia nostra no quello non lo possiamo fare perché Dio crea uno schema che è la creazione ha uno scopo da raggiungere il regno poi crea le leggi naturali causa-effetto e reincarnazione sono tutte le altre leggi poi ci lascia fare libero arbitrio ma siccome la legge di causa-effetto è una legge scientifica operante 24 ore su 24 e quindi ha potere reale in ciò che accade nella nostra vita la tipologia di vita la qualità della vita la determiniamo noi io a volte mi trovo a discutere con persone che magari hanno malattie gravi vanno dal dottore si pigliano le medicine spendono un mare di soldi e non cambiano vita ma io e io gli dico ma scusa è il tuo stile di vita che ti ha fatto ammalare non puoi pensare che risolvi il tutto solo pigliando pasticche sciroppi chemioterapia radiazione o tutto quello che cavolo vuoi devi cambiare vita perché è il tuo stile di vita che ti ha portato a quella problematica lì e devi capire qual è la causa che ha scatenato la malattia se no non ne vieni fuori non risolvi il problema perché magari risolverai quel specifico problema poi te ne viene un altro perché non vuoi cambiare stile di vita quindi noi non possiamo inficiare il progetto del creatore ma all'interno del progetto del creatore lui ci fa fare più o meno come ci pare salvo poi che metti un termine questo termine è biblicamente conosciuto con la fine dei tempi che non è la fine del mondo la fine dei tempi non è altro che il tempo che il creatore ci concede perché poi c'è un macrosistema che è quello universale che ha le sue necessità che sono al di sopra di quelle del pianeta Terra quindi il padre ci concede un tempo nel quale dobbiamo fare questa scelta è un po' come l'anno scolastico non è che puoi studiare in terza superiore e l'anno dura sei anni arriva giugno luglio devi dare l'esame se hai studiato bene se no vieni bocciato e devi ripetere quindi mi permetti mi fare una chiosa su questo mi permetti cioè una nostra amica che dice è molto triste tutto questo no è necessario secondo me perché vedi alle volte questi momenti servono perché i debiti si devono pagare e se non li paghi a quel punto tu ti fermi fai un concilio di pietra e in quel momento non puoi più avere quieto vivere perché è questa situazione che stiamo vivendo e perché tutti noi mi ci metto pure io non abbiamo fatto i conti in tasca e abbiamo procrastinato sempre fino a quando poi per un motivo X chiamatelo a destino alcuni lo chiamano leggi universali date voi la connotazione e il nome ma non cambia la sostanza la verità che noi adesso stiamo facendo i conti cosa che non abbiamo mai fatto e questo non è triste perché se noi continuiamo a rattristarci noi non riusciamo a muoverci perché la tristezza implica qualcosa di fermo qualcosa di pesante no dobbiamo reagire dobbiamo agire quando mia nonna non c'aveva carne da mangiare si mangiava la cicoria per strada questo dobbiamo fare perché se non c'è la carne mica dobbiamo rimanere fermi tristi che non si ci dobbiamo dobbiamo automaticamente cambiare visione non ci vuole tristezza bisogna veramente fare i conti con se stesse ci stanno mettendo davanti il nostro destino davanti accettiamolo così si cresce si diventa maturi così è come quando tuo padre si ferma e ti fa fermati tu stasera in discoteca non ci vai perché perché tu droghe non ne prendi più no ma io voglio continuo è l'ultima volta giuro che è l'ultima volta tu non esci più ecco questo è il nostro momento di stop abbiamo due strade o riflettiamo queste dirette che facciamo insieme a Pierre non sono di intrattenimento queste cose vi devono rimanere dentro perché altrimenti ci sono gli Avengers al cinema andate a vedere quelli è bellissimo ma intanto scusa Giorgio è finito non ho finito scusami intanto vorrei capire perché questa persona una ragazza mi sembra ha detto che tutto questo è triste non capisco perché debba essere triste perché è triste la situazione nella quale versa l'umanità ma se noi impariamo la situazione e impariamo a comportarci come Dio comanda vedrai che la situazione diventa non triste diventa meravigliosa anzi più più che felice entriamo in contesti di cui non abbiamo la più pallida idea di cosa possa essere quindi è triste adesso ma questa realtà l'abbiamo creata noi tutti insieme quindi cosa pretendiamo certo che è triste essere bocciati a fine anno ma se non hai studiato o chi te la pigli tristissima la situazione anzi non è triste è terrificante orribile è la nostra scelta torniamo al 2019 al 2018 al 2017 che facevamo? gli affaracci nostri vigilavamo sulla democrazia su quello che accadeva nel teatrino della politica nella magistratura abbiamo sostenuto quei quattro gatti di magistrati che cercano di fare una vera battaglia contro il malaffare la corruzione la criminalità no non abbiamo fatto niente ci siamo completamente disinteressati delegando a una manica di buffoni e di corrotti la gestione della nostra nazione quindi con chi ce la pigliamo tristissimo sono d'accordo ma è colpa nostra e i debiti come ha detto Giorgio li dobbiamo pagare quindi il discorso è che noi come dicevi tu Giorgio purtroppo siamo a vezzi a occuparci del problema quando è troppo tardi quindi ce ne freghiamo della salute fino a che non ci viene il cancro o il covid o altre cose ma perché non fare prevenzione una volta che io conosco le leggi e so che non devo andare a sbattere con la macchina sui muri basta che guido bene perché rispetto al codice della strada il mio viaggio sarà felice andrò a fare la festa il picnic a vedere uno spettacolo musicale quello che mi pare ma se io non conosco le leggi che governano il viaggiare sulle strade non arriverò salvo a destinazione questo è il discorso che dobbiamo capire comunque ci piaccia o meno siamo soggetti a delle leggi che ci impongono determinate cose ma la creazione dell'essere umano è una creazione favolosa non è un caso che Cristo dica voi siete dei e farete cose più grandi di me si riferiva alla natura dello spirito che una volta che acquisisce attraverso la sperimentazione la conoscenza del bene e del male noi ci evolviamo perché siamo eterni e questa è un'altra bella notizia scientificamente parlando non come credo religioso noi siamo entità eterne che sperimentano nelle incarnazioni per comprendere la necessità del bene e che il male va abbandonato perché non produce bene al di là di darci un illusorio benessere temporaneo o piacere temporaneo Dio ci lascia fare ci ha creato liberi non ci impone con la forza del suo potere di fare come dice lui ma ogni scelta che noi facciamo ogni azione che noi compiamo comporta una responsabilità che non ti viene sanzionata nel momento che la violi da un giudice al quale comunque si può sfuggire viene sanzionata da una legge suprema che è la giustizia di Dio la legge naturale di causa ed effetto quando impareremo che ciò che noi facciamo produce eventi reali nel nostro futuro incomincieremo a raddrizzare il tiro e a comportarci diversamente per raggiungere quello scopo che tutti vogliamo che è la felicità anzi io voglio di più della felicità io voglio unirmi a queste umanità che viaggiano nel cosmo voglio conoscere l'universo voglio vivere in un bel pianeta non inquinato di bella gente che fa arte che fa cultura non di gente che si ammazza come i cani ma che roba è questa ma come possiamo accettare tutto questo poi Gaia scusami l'etimologia di tristezza significa corrodersi la desinenza la radice la corrosione questa gente vuole che tu ti corroda quindi tu non devi dargli la tristezza proprio non esiste questo concetto perché stai facendo il loro gioco quindi è un concetto riallacciandomi al discorso scusami un secondo chiederei a questa ragazza che cos'è che è gioioso cioè se quello che io sto spiegando è triste qual è la gioia qual è la soluzione alla guerra all'ingiustizia alla fame del mondo lei dice che è assolutamente d'accordo tutto quello che hai detto tu lo dice mi fa male per le persone che non riescono ancora a comprendere libero arbitrio libero arbitrio ma siamo eterni si chiama Gaia questa ragazza si Gaia siamo eterni lo spirito non può essere bruciato non può essere tagliato non può essere bagnato noi siamo entità eterne ci sono motivi scientifici tra l'altro della misericordia dell'intelligenza divina per il quale non ricordiamo le vite passate ma ormai attraverso un processo di evoluzione spirituale o altre cose su cui comunque io non sono d'accordo come le regressioni ipnotiche possiamo ricordarle le vite precedenti io non ho mai fatto regressioni ma ho preso coscienza di alcune mie vite passate quindi le persone hanno libertà e diritto di sbagliare entro certi limiti perché poi il sommo legislatore ci mette un freno e dice basta è inutile che continuate a perdere tempo nell'errore vi fermo ecco quindi la fine dei tempi e vi faccio ricominciare quindi non c'è una fine c'è una sperimentazione a cui abbiamo diritto perché il creatore ce lo concede ma che prima poi finisce perché ha furia di sbattere la testa sul palo e di rompertela vedrai che te la fai finita ora dov'è che possiamo iniziare a cambiare possiamo iniziare a cambiare subito da adesso capendo che ogni scelta che noi facciamo comporta un effetto quindi prima di fare una scelta ragioniamoci bene ad esempio un grande problema è il problema delle relazioni sentimentali no? si parte a razzo e si finisce puntini puntini ma perché? perché ci si innamora di cose esteriori soprattutto la cosa più stupida che facciamo è proiettare nel partner i nostri desideri pretendendo che il partner sia fatto a puntino come a noi piacerebbe salvo poi scoprire che quello non era esattamente come noi pensavamo ma c'è un altro problema quando noi ci scegliamo il partner non conosciamo nemmeno noi stessi quindi uno che non conosce se stesso mi si dovrebbe spiegare come fa a capire se per lui o per lei va bene quello che si sta scegliendo quindi negli ambiti della vita noi facciamo delle cose allucinanti che non facciamo nelle cose più banali ad esempio se io compro un elettrodomestico mi devo leggere il manuale delle istruzioni o devo chiamare un tecnico che mi spieghi come cavolo usare la lavatrice perché se uso la lavatrice per affettare il salame avrò dei risultati disastrosi giusto giusto la cosa più complessa che c'è sul pianeta che è la vita dell'uomo è così lasciate al caso come viene viene ma ragazzi ma che cavolo ci abbiamo in testa non c'è il caso c'è la causa effetto il caso non esiste perché queste leggi sono di una perfezione matematica assoluta e ciò significa che anche il mondo dei sentimenti è soggetto a leggi matematiche una volta che hai capito come funziona ecco quindi che certi sbagli che ti portano all'infelicità non li fai più quindi il problema dov'è? è un problema didattico di studio e sperimentazione per questo io inizio le conferenze sempre proponendo al pubblico di scaricarsi questi 20 libri perché bisogna studiare e poi applicare perché nel momento che studi applichi quindi sperimenti incominci a diventare saggio e il saggio non lo freghi con slogan televisivi o buffoni burattini nell'arena politica o con presunti esperti del pifero che sono strappagati che hanno dei conflitti di interesse spaventosi e vanno lì a sparare fesserie e poi la gente ci capisce nulla ci crede e finisce male quindi dobbiamo cambiare cioè il problema è che non deve cambiare il governo non deve cambiare il vicino di casa il marito il figlio devi cambiare tu perché se cambi tu non devi chiedere il permesso a nessuno cambiando tu cambiando tu io il mio cambiamento che non devo chiedere il permesso a nessuno automaticamente produce una variazione del mio sistema sociale per reazione della legge cambio io cambia tutto invece noi quando è cambiato il mondo eh? quando è cambiato il mondo Pier quando un uomo arrivò e disse ama il prossimo tuo come te stesso non ti aspettare perché prima il tempo com'era non farai altri quello che non vorresti che venisse fatto a te arrivò un uomo e cambiò il mondo di sé inizia tu ad amare non ti aspettare non diventare passivo diventa attivo e il mondo è cambiato invece tutti lì a sproloquiare spettegolare eh sul vicino sulla suocera sull'amante sulla moglie sul marito sempre perfetti gli esseri umani tranne quelli che ci stanno intorno no qualsiasi problema noi abbiamo è scaturito da noi e questa è una cosa molto importante e bella perché se il mio problema deriva da quelli che mi stanno intorno come faccio a convincerli tutti affinché io possa stare bene ma se il problema ce l'ho solo io non devo chiedere il permesso a nessuno basta che cambio io secondo gli assiomi della legge e il problema lo risolvo ovviamente ci vuole il tempo perché se io ho un'eredità di errori gravi che ho fatto nella mia vita non è che li cambio in due giorni così come ci ho messo tempo a combinare dei disastri mi ci vorrà tempo di risolverli ma se ne può uscire sempre perché c'è l'eternità a disposizione dell'essere umano è il dono più grande che Dio ci ha dato primo la libertà secondo l'eternità Pier ti vedo molto stanco e preferisco in questo momento procrastinare il nostro incontro il nostro la nostra bellissima discussione insieme a tutti gli amici in un altro momento non voglio approfittare non voglio abusare della tua presenza quanto abbiamo fatto Giorgio? già alle 10 e mele abbiamo fatto un'ora e un quarto credo che sia importante siccome ti vedo abbastanza provato non voglio abusare di questo del tuo tempo detto questo amici come avete capito se mi posso permettere di fare un sfrutto dobbiamo vivere questa prova come qualcosa che ci fa non più creare questa ciclicità dei tempi perché se noi procrastiniamo e aspettiamo che tutto prima o poi lenisce finisce ricomincia il gioco e noi non abbiamo imparato nulla e invece se questo lo vediamo come non una tristezza un'angoscia ma lo vediamo come un momento in cui si deve fare quel passo in più e tutti e tutti dobbiamo fare quel piccolo sforzo che parlava Pierre a quel punto il mondo cambierà solo così cambierà perché queste sono le prove che nel tempo ci sono sempre state solo che l'uomo ha sempre atteso che la cosa finisse per cercare di ricominciare quello che aveva fatto prima la parola cambio che sta dicendo Pierre implica il fatto che quello che c'era prima ce lo dobbiamo dimenticare non possiamo portarlo appresso non esiste cambiamento portandoci indietro il passato non esiste quindi approfittiamo e risentitevi questa bellissima trasmissione che abbiamo fatto con Pierre perché sono un rilascio prolungato come dico io Pierre io ti ringrazio di cuore è un piacere stare con te invito tutti gli amici prego sì allora siccome ho parlato di questi 20 libri poi le persone magari chiedono ma dov'è che li trovo allora se volete scaricarvi gratuitamente questi 20 una ventina di libri basta che scrivete alla mail info chiocciola piergiorgio caria punto it vi risponderà una mail vi arriverà una mail automatica dove c'è la procedura per poi scaricare i libri poi c'è il mio canale youtube piergiorgio caria 59 strapieno di conferenze su tantissimi argomenti anche quello tutto gratis iscrivetevi così magari il canale si diffonde e può diciamo far conoscere a più persone queste conoscenze lì a fronto parlo di extraterrestri di scritture di tante cose insomma di archeologia misteriosa ribadisco piergiorgio caria 59 poi se posso permettermi giorgio sto preparando un webinar che uscirà credo tra una decina di giorni dove affronterò in maniera applicata all'attuale situazione geopolitica gravissima che stiamo vivendo rischiosissima tutte queste leggi e questi discorsi è molto di più diciamo data il tempo per spiegare da un punto di vista assolutamente diverso le vere cause della situazione che si è creata adesso a livello geopolitico con questa guerra molto interessante lo troverete troverete nei miei social quando lo tireremo fuori posso dire il titolo che è l'ultima guerra dell'anticristo e sarà un trattato di scienza spirituale applicato alla geopolitica dove dirò delle cose importanti magari dopo aver fatto tutto il webinar magari facciamo una diretta in merito a questo perché non abbiamo toccato apposta quel tema perché è molto legato al discorso dell'anticristo molti non trovano il nesso ma sappiate che siamo là detto questo non ti voglio rubare altro tempo cari amici mi raccomando iscrivetevi al canale cliccate sulla campanella per tenervi sempre aggiornati con Pier ci rivediamo molto presto perché lo tedierò un po' di più perché c'è dobbiamo fare questa diretta qui e poi ti devo chiedere una cosa ma te la dico quando finisce la trasmissione è tutto perché è una cosa così un abbraccio a tutti grazie buona serata a tutti grazie Pier ci vediamo presto grazie Giorgio grazie amici un abbraccio grandissimo e rimaniamo sintonizzati perché comunque passeremo questo periodo brutto ma il futuro sarà meraviglioso per chi saprà meritarselo sarà bellissimo oltre ogni nostra immaginazione e un uomo saggio diceva non abbiate paura grazie a tutti 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 grazie a tutti